che era un amoroso per eccellenza, che non faceva estensioni tra uomini e donne, perché siamo tutti creatori di Dio, perché siamo tutti creatori di Dio. Signore, non ci sia buono, il cielo sta dormendo, che hai, non ce la fai. Ma dagli uomini che ti abbracciano e ti rubano dagli occhi alla egria, e non puoi dar via, non puoi dar via. Se le lacrime mi aiutassero, poteresti il mio dolore, che ora c'è? Nella stanza 26, tra quei fiori che non guardi, dove vendi col favore, dove amarsi con l'amore, e sdraiando ti vai via da te, nella stanza 26, dove incontri sempre un altro addio, che finisce con il bisogno d'affetto, le mani in cui prende contatto, che la c'è. Un uomo che non vuoi, un uomo che non sai, sta bussando la tua porta, già la tua, ma non vuoi abbracciare, come uomini imprendibili, vanno liberi dal corpo, stanno ormai i pensieri che hai. Nella stanza 26, tra quei fiori che non guardi il mare, se ti affarci del mare, ricominci a respirare, vuoi ti perdere la sua armonia, e hai il coraggio di Antartica, e ad un mondo storico che non vuoi, 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 Oh, te lo metto Grazie a tutti.